E' vero, sì, confermo che è stato un bel salto perché passare, come diceva Sergio, dal DOP a... qui è una vera e propria ricerca, cioè noi andiamo alla ricerca, siamo dei Segugi, andiamo in tutte le regioni e cerchiamo i migliori artigiani che sono in grado di produrre quel determinato prodotto. Io credo che le parole di Alessandro esprimano benissimo qual è il concetto di artigiani, non c'erano parole migliori per esprimere la filosofia del progetto. Alla base c'è una fortissima passione, passione per il cibo, per i territori, per le persone e siamo riusciti a metterle insieme, a creare un consorzio di produttori, una biodiversità di prodotti che parte, come diceva Sergio, dall'Alto Adige ma arriva in Calabria, passa per la Sardegna perché abbiamo anche un produttore sardo che fa un prodotto particolarissimo che si chiama Mustela, non so quanti di voi conoscono la Mustela ma è un prodotto che è in commercio da poche settimane e queste qua sono le facce, parlando prima di analogico e di digitale, questo catalogo che dopo potete anche consultare, qui ci sono le facce delle persone, c'è la faccia, c'è il prodotto e c'è il territorio perché l'importante è che questi produttori ci mettono la faccia, ognuno con le sue esperienze, con le loro tradizioni ma ci mettono la faccia in prima persona e li trovate solo in Coop perché questo prodotto è in esclusiva per i supermercati e i permercati Coop in tutta Italia per cui se qualcuno vuole assaporare questi prodotti, capire la biodiversità che c'è in Italia deve venire esclusivamente nei supermercati Coop, è un progetto che io ho sposato con tanta passione, lo vivo quotidianamente, è faticoso perché in effetti dover mettere d'accordo tutti vi assicuro che non è semplice, anche vincere qualche volta la diffidenza dei produttori, ma chi è questo, ma cosa vuole, ma figuriamoci e poi una cosa che credo tutti i produttori riescano a riconoscere nel nostro modo di approcciarci è il rispetto, cioè noi rispettiamo il prodotto, rispettiamo i produttori, rispettiamo il luogo e questo vi assicuro che è fondamentale, anche voi o i consumatori si è in grado di assaporare il prodotto nel miglior modo possibile, cioè noi non andiamo a deformare il prodotto, noi lo prendiamo, lo rispettiamo e lo mettiamo in vaschetta e quello vi assicuro che è un'espressione incredibile, molta cura nel prodotto, nell'affettato, non crediate che questi prodotti hanno affettato, vi assicuro che sono dei veri e propri gioielli, ogni prodotto ha una sua personalità, una sua identità, sono delle vere e proprie perle, che io non so quanti di voi abbiamo avuto la possibilità di assaggiarli, mi auguro che in futuro ci sia anche la possibilità di venire a trovarvi, perché no, io mi metto anche a disposizione vostra, qualsiasi informazione vogliate sul progetto, io sono qua, la mia faccia adesso l'avete vista, per cui non c'è nessun problema, c'è un numero verde anche per me, Sergio, volendo, per cui contattateci, condividiamo i problemi, le esperienze, perché è fondamentale per andare avanti, come io condivido con i produttori, mi sarebbe piacere anche condividere con voi, se ci sono suggerimenti anche da parte vostra, perché ripeto, è un progetto vostro e mi piacerebbe che la passione che mettiamo noi anche nella ricerca sia la stessa passione che mettete voi ogni giorno nel presentare e nel raccontare questi prodotti. Grazie. Bene. Grazie. 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 Grazie.